Cari amici, prosegue la campagna elettorale di Fabio Fazio, condotta ovviamente su Rai 1, a che tempo che fa? Naturalmente con i vostri soldi. La campagna elettorale è iniziata con l'intervista a Macron, beh, oddio intervista, diciamo che Fazio, ospite all'Eliseo, ha detto una sola cosa a Macron, prego, dica quello che vuole. Dopodiché c'è stato un intermezzo sullo Ius Soli, una vicenda dell'autobus bruciato da, autobus che trasportava 51 bambini, ragazzi, bruciato da un senegalese con cittadinanza italiana. Nel corso di questa puntata di Fazio sono stati ospiti Rami e Adam, cioè i due adolescenti che, con la collaborazione in realtà di altri adolescenti italiani, hanno permesso di evitare una strage. Finito l'intermezzo Ius Soli questa settimana si riprende con la campagna elettorale vera e propria e ospite sarà Juncker, il presidente della commissione, notoriamente ostile all'Italia e si prevede che subirà lo stesso trattamento speciale ottenuto da Macron. Quindi probabilmente Fazio gli dirà, prego Juncker, dica quello che vuole.